Le anticipazioni Il Segreto riguardano la puntata del 23 dicembre 2016 in cui vedremo dunque che Maurizio entra in possesso della cartella clinica di Berta e nel frattempo Lucas e Sol, intanto, vogliono liberarsi di Eliseo. Gracia e Mariana manterranno il silenzio sulla loro idea di aprire la boutique, mentre Berta sembra convincere Bosco a tornare alla villa. Francesca, però, cambia atteggiamento con la ragazza, per quale motivo. La matrona è sempre più decisa ad allontanare la ragazza dal nipote, e cerca addirittura di evitare che i due giovani restino da soli. Maurizio, intanto, spia la giovane Baglia, e Fè, appena rientrata alla tenuta, se ne accorge. La domestica capirà che Maurizio sta nascondendo un segreto, e non si sbaglia, il capomastro ruba la cartella clinica della ragazza e scopre qualcosa di sconvolgente. Anche grazie ad un suggerimento di Carmelo, Sol si reca ancora una volta da Lucas sperando di convincerlo a non partire. I due giovani si scoprono ancora molto innamorati, per cui il dottore finisce per decidere di restare a Puente Iveo. A questo punto, Lucas e Sol organizzano un piano per riuscire a sbarazzarsi una volta per tutte dello scomodo Eliseo, in modo da poter finalmente vivere il loro amore liberamente e senza problemi. La strada per la felicità dei due giovani, come vedremo, è ancora piuttosto lunga, cosa sarà dunque del loro amore? Chiudiamo le nostre trame e il segreto rivelandovi inoltre che Mattias non riesce ad accettare il fatto che tra Emilia e Cesar ci sia un forte feeling, la figlia di Raimundo sta ritrovando finalmente la serenità, ma la cosa turba il ragazzo, Emilia sarà dunque costretta a scegliere.